Deposizione Corona, onore ai caduti. Questa mattina, 12 novembre, ad Agropoli si è tenuta la cerimonia di deposizione della corona in onore dei caduti di Nassiria. A presenziare l'evento il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il capitano Fabio Lagarello della compagnia Carabinieri di Agropoli, la Polizia Municipale e l'Associazione Carabinieri in Congedo.